ciao a tutti questi invece sono degli occhiali che ho acquisito circa due mesi fa sono tra gli ultimi che ho comprato è un modello di tom ford il packaging di questi occhiali tom ford è molto semplice c'è la scatola apertone con il logo tom ford adesso allontano beh qui ho conservato lo scontrino tra l'altro l'ho pagati anche un se non ricordo male anche un buon prezzo di 160 quasi a metà prezzo perché lo presi l'ho presi alla outlet quello in toscana e a parte un piccolo manualetto che vabbè lascia un po il tempo che trova c'è una bustina dove appunto ci sono tutti i foglietti della garanzia quindi niente di particolare e poi chiaramente il packaging si inserisce qua dentro la scatola vediamoli allora eccoli qua allora intanto inizio di ricano le lenti molto particolari è uno dei motivi anche per cui li ho acquistati perché sono sulla parte esterna danno leggermente sul violaceo diciamo così è un modello molto comodo diciamo simil tra i moscott e rayban come design vedete invece dentro sono specchiate azzurre il modello è questo qua sono i brian 0 2 la misura da 51 21 vedete tom ford tra l'altro sono fatti completamente in italia poi magari vi ho imposto qualche foto da insomma in viso allora sono molto bene sono rifiniti molto bene devo dire perché anche sono hanno una rifinitura qua dove c'è scritto tom ford una cosa che a me non piace tantissimo che proprio purtroppo è una cosa che hanno quasi tutti gli occhi di tom ford è la scritta tom ford sulla lente che la trovo molto fastidiosa in ogni caso comunque sono occhiali comodissimi anche al sole la lente che è colorata non dà assolutamente fastidio il packaging è direi basilare non è nulla di che c'è una pezzetta solamente dove c'è appunto c'è la logo tom ford e niente tutto qua la scatola che comunque è abbastanza semplice e niente gli occhiali sono questi adesso poi vi posto posto qualche foto e niente al prossimo video grazie a tutti